Ehm, quando devi organizzare una festa e la cosa ti sfugge un po' di mano Ragazzi ho preso 200.000 cose Buon salve amici, io sono Sonia e questo è qui il mio canale YouTube E quest'oggi sono super euforica Ed infatti è il compleanno del mio ragazzo salvo Sì, questa entità tipo che sentite nominare ma che non avete mai visto Ma che volete farci, lui è così, si imbarazza Ma giuro che esiste, non è un fidanzato immaginario E quest'oggi sto organizzando una festa per lui Perché è il suo compleanno e fa 32 anni Persi Comunque sia, se mi dovesse andare augurategli buon compleanno sotto questo video Perché poi glielo farò vedere Visto che è il primo compleanno che passeremo insieme Voglio che sia tutto perfetto ragazzi, indimenticabile Ecco perché sono andata a scegliere delle decorazioni Forse un po' troppe E sarà una festa a tema Cioè, anche lui ama le feste a tema Ma ragazzi, ditemi se non siamo fatti l'uno per l'altro Cioè, veramente assurdo Tutte le mie feste e la mia vita sono sempre state a tema Quindi sì, siamo perfetti insieme Il tema scelto di Comune Accordo per quest'anno è Anni 90 Ecco perché abbiamo Yula of E tante altre robette che adesso vi faccio vedere Allora, partiamo dalle cose necessarie e immancabili per ogni festa Come appunto forchettine, tovagliolini, piatti, bicchieri Super colorati ragazzi Perché era tipico di quegli anni non avere uno stile vero e proprio Sì, infatti ragazzi, penso che gli anni 90 fossero i più colorati e no senza di tutti So che voi non esistevate in quegli anni Ma io ci sono nata Quindi praticamente la mia infanzia Quindi ricordo tipo il Crystal Ball I ciuccetti piccolini Porta Fortuna Tutte queste robette strane Quindi è un tema che mi piace un sacco E che è super nostalgico Ma andiamo avanti Abbiamo anche bicchieri di spumante super colorati Ovviamente bicchieri per bere delle bibite Palloncini coloratissimi e non possono mancare 32 il numero degli anni del mio ragazzo E queste qua che sono delle candele che sparano stelle filanti Cannucce colorate Questi cariandolini che si mettono sulla tovaia Che è lì, verde, questo tubo che vedete Un 32 super colorato Ed ancora una tenda Questa che fa molta atmosfera Mi ricordava tanto i collegi americani Così come questi pompon Onestamente non so perché ho preso Ma ci stavano Vabbè, in realtà per il mio costume sono perfetti Perché adesso vi faccio vedere anche come ho pensato di vestirmi ovviamente Quindi ancora un bel festone Stelle filanti e non possono mancare E un bel set di colori Per fare un bel cartellone In cui ognuno può lasciare una dedica Ed infatti era tipico di quegli anni Scrivere nei diari Fare cartelloni Quindi secondo me è una cosa carinissima Per quanto riguarda i giochi abbiamo pensato anche di fare karaoke Ovviamente l'ula hop Che io ragazzi so usare meno di zero Cioè tipo la corda, l'ula hop Queste cose mai sapute fare in vita mia Vediamoci, provo E' già caduto E avete visto i miei calzini neri Che non c'entrano una mazza con l'outfit Però vabbè sono a casa Poi ancora abbiamo il beer pong Ovvero un gioco che immagino facessero tipo le confraternite americane In cui praticamente si fa cadere la pallina dentro un bicchiere E se riesce a fare centro Devi bere quello che c'è nel bicchiere Insomma non è molto igienico Ma negli anni 90 non c'erano problemi di covid Quindi tutto ha senso Poi faremo delle sfide di ballo Ovviamente su canzoni a tema anni 90 Comunque vi faccio vedere il mio angolo dolciumi Ovviamente deve essere fatto di dolci tipici di quel tempo Quindi le goliador Le chewing gum che si compravano così spuse Cioè ragazzi stiamo parlando di quando ancora non c'erano neanche gli euro E quindi tu andavi là tipo con mille lire e compravi la qualunque Perché queste qua costavano tipo 100 lire Perché lo so detto così sembrano un sacco In realtà erano pochissimi Tipo l'equivalente di 10 centesimi Non saprei E compravi le chewing gum spuse Spesso c'erano quelle con le figurine o dei calciatori o di Barbie Che a me piacciono un sacco O appunto caramelle tipo le goliador queste qua E guardate un po' che chicca ho trovato Le caramelle di lupo Alberto Che era un personaggio super conosciuto appunto negli anni 90 Quindi sono contentissimo Spero che non siano proprio degli anni 90 Tipo scadutissime Fatemi vedere la data Ok no non sono scaduta E ovviamente non possono mancare chupa chups Caramelle alla coca cola Le liquirizie a girella Le fruittella Quante pubblicità tipo delle fruittella Ma anche ovviamente I orsetti gommosi Ma secondo voi avrei mai potuto farmeli mancare? No ovviamente Ma passiamo a vedere cose più interessanti Tipo come mi vestirò per questa festa a tema personaggi anni 90? Ovviamente cioè ragazzi Solo come lei potrei Britney Spears In Eat me baby one more time Non so se avete presente quel video Ma tipo andava super popolare Ve lo lascio qui Una foto Uno spezzone Non so quello che trovo Praticamente mi sono accorta Di avere tutto a casa Perfetto Per essere già vestita come lei Ed infatti ragazzi Ho un cardigan grigio perfetto Una camicetta Questo qui lo ammetto L'ho comprato Andava sotto Questa gonna già ce l'avevo Certo magari più tardi La indosserò senza i peli dei miei gatti Calzettoni Che lei in realtà è grigi Però io ce li ho appua E sono corti Quindi forse metterò quelli neri Le uniche cose che ho comprato Sono questi elastici Perché mi servivano così rosa E non ce li avevo Il nastrino fucsia E questi elastici Molto fru fru Che ho preso Per simulare Il pompone Che lei ha in testa Niente ragazzi Non vado l'arrivo a dirmi cose Ah poi ho fatto tipo un azzardo Ho preso delle extension Queste qui Perché in realtà Lei ha i capelli tipo Un po' biondici Ma onestamente Non sono molto sicura Di come verrà il risultato finale Quindi capirò Se tingerli tipo Con gli ombretti O provare le extension E adesso ragazzi La cosa più bella Organizziamo Il regalo di salvo Ebbene sì Perché io ho fatto una cosa Che lui dovrà scoprire E che voi saprete in anticipo E che vorrò mettere dentro Un mega paccone Quindi organizziamo Questa mystery box In cui lui dovrà scavare Per trovare il suo regalo Ecco perché ci muniamo Di scatola gigante Con fondo trasparente Per metterci Tutti i palloncini colorati Questi simpaticissimi Coriandoli A forma di pacco regalo Un bigliettino di compleanno Dentro il quale Andrò a posizionare Delle cose che ho preparato io Con le mie manine Ed infatti Visto che il mio regalo Non è una cosa concreta Che può toccare Perché è un'esperienza Ho deciso di realizzare Un bigliettino d'amuri Con degli inizi Per fargli indovinare Che cosa sarà Ecco che con un programma Di grafica È nato questo biglietto Che mi metto in grande Così vedete Buon compleanno Amore mio Dalla tua ragazza Che non si contiene Dalla felicità Di averti con sé E poi c'è Una figura stilizzata Di una ragazza Che fa una puzzetta Ok mi sa Che questa ve la devo spiegare Praticamente io sono Intollerante al lattosio No? E quindi Capita spesso Che sto male Quando mangio cose Non dovrei mangiare Tipo la torta Che mangerò Al suo compleanno E quindi Ogni tanto Mi scappa una puzzetta Ok non posso credere Di averlo detto realmente Ecco perché La tipa Scorreggiona lì Quindi insieme a questa cartolina Che metterò dentro Questo biglietto Dentro la busta Ci starà anche questo qua Che è un cruciverba Realizzato da me Con una parola Nascosta E che nasconde appunto La sorpresa Che gli sto facendo Ed infatti ragazzi Io ho prenotato Un viaggio per Parigi Per andare a Disneyland Parigi Perché lui Non c'è mai stato O meglio C'è stato quando aveva 4 anni Quindi non ricorda nulla E quindi Siccome ci tenevo un sacco A fargli vivere Questa esperienza Gliel'ho regalata In modo tale Che la possiamo vivere insieme Ecco perché Adesso devo Realizzare Dei finti biglietti aerei Perché voglio qualcosa In più particolare Rispetto ai veri biglietti aerei E un biglietto D'ingresso a Disneyland Che ho elettronico E che non mi piace così Quindi Adesso auguratemi Buon lavoro Ragazzi Dopo essere impazzita Con la grafica Per realizzare Questi biglietti aerei E anche I biglietti Disneyland Finalmente forse adesso Si stanno stampando Cioè guardate Con tutte queste prove stampa Praticamente ho deforestato L'Amazzonia Ma se non mi è finita La cartuccia Ci siamo ragazzi Sta uscendo il nostro biglietto Per Disneyland Firmato salvo Vediamo se lo troviamo Eccolo qua E dentro la cartolina Finalmente abbiamo Gli auguri E il cruciverbo E qua I biglietti Per andare A Disneyland E a Parigi Un finto boarding pass Sperando di non dimenticare Poi quello vero Sì Ne sarei capace Comunque sia Adesso Andiamo a fare Lo scatolone Pieno di palloncini In cui andremo A nascondere I nostri regali Come funge La situa Aiuto Ok Ci sono Tre Cuppacce Che Dobbiamo andare A chiudere In qualche modo Qua Bezzettino Di scotch E Tappiamo tutto Ok La scatola C'è Si regge In piedi E c'era anche Una scritta Che componeva La parola Love Ovvero Amore Le cui lettere Andrebbero messe In ogni faccia Del quadrato Però non so Se le metterò Magari risulterà Un po' Tommace Vediamo Intanto andiamo A perdere Un polmone Soffiando Qualche palloncino Giusto qualche Povera me Rimarrò senza fiato Almeno il mio ragazzo Sarà contento Perché non parlerò Più tanto E via Ragazzi vi prego Datemi una bombola D'ossigeno Non ce la faccio più Su forza L'ultimo respiro Che ho esalato Sono morta ragazzi E lo buttiamo qui dentro Che fra l'altro Nenche so se c'entra più A questo punto Introduciamo il nostro biglietto All'interno della bustina Voilà Apriamo questi mini pacchettini Regalo E un po' li sparpaglio All'interno della busta In questo modo Certo stanno cadendo tutti fuori Ma dettagli Sigillata la busta Con gli stessi coriandolini La vado a mettere qui sopra Così che sarà la prima cosa Che vedrà Mentre in fondo A tutto questo Ambaradanna Di palloncini Ci saranno i due biglietti aerei Con la guida per Parigi Questa qua Non è per Parigi Ma visto che l'avevo ordinata Su Amazon Nel postino Non mi ha trovata a casa Al momento Ce l'ha in ostaggio Il fioraio sotto casa mia Quindi adesso La andrò a recuperare La impacchetta Insieme ai biglietti E la metto dentro il pacco Mega piaggerellona Di confetti Regalo ovunque Opla Richiudiamo il tutto Se ci riusciamo È gigante ragazzi E sul pacco Mettiamo un'immancabile Scocca rossa Se capisco come funziona Credo che si debba tirare Da qualche lato Vediamo se è vero Olè E una magia È compiuta Adesso la posizioniamo Sul nostro pacchettone E il mio Megapacco Regalo di compleanno È pronto Certo Non l'ho chiuso Effettivamente Perché devo mettere Ancora la guida In cartata Quindi ragazzi Spero che gli piaccia Ditemi cosa ne pensate E se anche a voi Mi piacerebbe ricevere Un megapacco Regalo del genere Adesso però ragazzi Mi devo sbrigare Perché devo andare A decorare Mi devo sistemare Io Vestire Anche se forse Audrey ha deciso Di vestirsi Lady Britney Spears Peccato che lei Non sia invitata Devo anche Recuperare La guida turistica Che metterò Dentro il regalo E portarlo A destinazione Inoltre ancora Non ho fatto Neanche la valigia Quindi ragazzi Cioè veramente Ho un sacco di cose Da fare E zero tempo Ma fatemi sapere Se vi andrebbe Di vedere Qualche diretta Da Disneyland Paris Perché noi Partiamo domani E quindi sono Super eccitata Ma mi devo sbrigare A fare la valigia E soprattutto Farla fare anche a salvo Che ancora non ne so niente Quindi vi salutiamo E augurateci Buona festa Alla prossima Ciao Ciao